Buongiorno a tutti e tutte, mi unisco anch'io ai ringraziamenti agli organizzatori e alle organizzatrici di questo incontro e a Toni Negri per il suo contributo. Dunque, ascoltando l'intervento che mi ha preceduta vorrei provare a riprendere e a interloquire a partire dal presente o quantomeno dal passato più recente dei movimenti per provare una lettura dei tentativi di produzione di forme del Comune in atto. Nel fare ciò vorrei partire da alcuni dati di cronaca, che in realtà non di sola cronaca sono, delle ultime settimane per inserirli nel quadro di una lettura sindemica della pandemia da Covid-19. L'interredazione tra i fattori sociali, economici, razziali, di genere ed infine sanitari non ha sorpreso ed è un fatto storicamente assodato, nonché una realtà che abbiamo ampiamente esperito negli ultimi due anni. Stante ciò, le governance occidentali hanno deciso di intervenire non solo primariamente, ma unicamente sul fattore medico della pandemia, provvedendo a una distribuzione ineguale dei vaccini, ad una distribuzione che in effetti ha seguito precisamente le linee di discriminazione razziale, sociale ed economica. Se la narrazione di questa interrelazione è stata assunta talvolta anche dai media mainstream, il discorso pandemico occorre precisare che ha glissato sulle cosiddette certain social and political conditions che Butler descrive esacerbare le vulnerabilità proprio di ciascun corpo. Se ad esempio le comunità razzializzate anche all'interno del nord globale sono state quelle più colpite dalla sindemia è perché le disparità sociali, economiche, il razzismo, le discriminazioni, i pregiudizi, la precarietà occupazionale, le disuguaglianze nella prevalenza di condizioni che aumentano la gravità della malattia, tra cui obesità, diabete, insufficienza cardiovascolare ed asma, e la lista che ho appena fatto è tratta dai report della Public Health East England, ecco tutte queste sono condizioni che ad oggi caratterizzano ancora maggiormente ai gruppi marginalizzati della società. In questo contesto, quindi un contesto che per riprendere la descrizione di Negri ha visto diffondersi forme di caos, provare a ragionare sul ruolo della resilienza credo possa essere un esercizio produttivo. La sopravvivenza alle forme sempre nuove di disciplinamento e di controllo attraverso l'adattamento, la resilienza quindi, condivide molto con quello che la lettura di Sunset dà di Chronic State of Acceptance. Lo stato di accettazione, a differenza dello stato di eccezione, non si definisce in un delta temporale, non stabilisce una forma di temporalità in cui l'eccezionale sospensione dei diritti ha luogo. Non è un caso se il concetto di stato di accettazione è stato associato alla categoria di Slow Violence di Nixon. Ha una forma quindi di violenza che si impone gradualmente ed in nascosso, una violenza di distruzione di ferita che si disperde nel tempo e nello spazio, una violenza di attrito che generalmente non è vista affatto come una violenza. E qui cito. Se noi pensiamo allo smantellamento della sanità pubblica, alla svendita del diritto alla salute, questa che altro è se non una forma di violenza lenta del biopotere che però non svelandosi nel suo svolgersi, contribuisce di fatto a costruire quello stato di accettazione resiliente nelle singolarità o nelle moltitudini assemblate però dalla governance. L'estensione del concetto focoltiano di biopolitica che propone Bembe nel 2003, in cui ha il diritto di far vivere o lasciar morire, si somma il biopotere di esporre le persone, le comunità, a condizioni talmente avverse alla salute da provocarne inevitabilmente la morte prematura, ha trovato nel tempo della pandemia delle applicazioni davvero vaste. Ha probabilmente contribuito ed esacerbato il sentimento di paura che il caos già instillava e innestava. Di fronte a questa situazione, le reazioni che si sono potute osservare sono andate almeno in due macro direzioni. Da un lato la resistenza del personale medico, l'assemblaggio nel mutualismo, nella costruzione del comune intorno al tema dell'accesso al vaccino e alle cure, e su questo magari tornerò più tardi. Dall'altro invece il crescere e eradicarsi di tensioni reazionari cavalcate da opzioni politiche alle volte buffone, alle volte materialmente pericolose, come nel caso di Bolsonaro o di Trump. Nelle ultime settimane si è detto molto, sicuramente troppo, circa queste piazze no green pass e si è provato a fare dei distinguo e tanti però. Nonostante questi esercizi, quelle piazze continuano a mantenere sostanzialmente un unico punto fermo. A fronte alla rinuncia, infatti, a tratti identitari, l'elemento che permane e che rimane è quello no-vax, fondamentalmente. Non c'è distinzione possibile tra no green pass e contraria alla vaccinazione. Ha smetto di poter essere ipotizzata anche per quel caso particolare che doveva essere la città di Trieste. Ebbene, cosa esprime esattamente questa moltitudine? Quali sono i motivi di un assemblaggio di questo tipo, se non un'idea di libertà senza solidarietà, di libertà individuale, singolare, soggettiva, che non produce né vuole farlo forma del comune? Un'idea che segue quell'illusione neoliberista che è l'apparente smaterializzazione della catena produttiva. La sommatoria delle prestazioni individuali e della produzione cooperativa, che come diceva tra l'altro poc'anzi i negri, hanno via via superato la centralità della fabbrica, divenendo attività intellettuali, servizi materiali, soggettivazioni produttive, solo per citarne alcune. Ebbene, questa sommatoria investe ormai la vita sociale tutta. Al netto della percezione, quindi di una frammentazione, come hanno scritto Negri ed Art, le persone impiegate nella produzione e nella riproduzione sociale hanno le mani su tutte le leve dell'apparato. Ciò nonostante, l'insieme biopolitico delle singolarità non riesce oggi a produrre e mantenere un cambiamento duraturo nel segno di processi democratici giusti. Ma anche su questo torneremo, credo, a tempo debito. Le piazze no green pass, dicevamo poc'anzi, sono assemblee che esaltano una libertà mutila, autoriferita ed autoreferenziale. E non è un caso se queste piazze si sono date nel nord globale, in piena contrapposizione con chi invece nel sud del mondo costruiva forme nel comune sul diritto alla vaccinazione, sulla sottrazione della salute dalla catena della discrezionalità necropolitica. Di fronte a questo scenario, al caos quindi dei comportamenti della moltitudine, la domanda che ci poniamo è come recuperare al comune un concetto di libertà che non faccia meno della solidarietà di classe. E ancora prima, forse, qual è il terreno di produzione del comune che riesce ad assemblare singolarità in una moltitudine che possa proporre e produrre forme di organizzazione. Se la pandemia è stata un sintomo della crisi climatica, o se per meglio dire la pandemia è stata in realtà una sindemia che origina dal modello di produzione capitalista, allora il terreno della giustizia climatica è esattamente il terreno in cui rimettere in moto il libero assemblaggio sociale, il luogo in cui costruire le premesse per una soggettivazione artistica della moltitudine. Nell'era del capitalocene, l'estrazione di valore avviene a partire dallo sfruttamento di quella che Jason Moore definisce natura a buon mercato. Forza lavoro schiavizzata, spesso razzializzata, lavoro riproduttivo non salariato, risorse naturali. Abbiamo di fronte gli assi su cui il capitalismo ha agito discriminazioni. Nel suo volume Antropoceno, capitaloceno e scenari di ecologia mondo nell'era della crisi planetaria, Moore definisce il capitalismo non come un modello di produzione che ha un regime ecologico, insostenibile peraltro, ma come un regime ecologico di per sé. Guardando il capitalismo come un modo di organizzare la biosfera, le relazioni sociali, le relazioni produttive, si riconoscono i nodi intersezionali e su questi si producono forme del comune. La premessa metodologica che abbiamo appena fatto non è un vezzo sociologico, ma è il posizionamento che ci consente di superare la passione triste della resilienza e di trasformare il movimento delle singolarità in concerto resistente. La responsabilità individuale, l'addessare le colpe al singolo, è un vecchio trucco del capitalismo, che in tempo di crisi climatica può raccontare la favola bella dei piccoli gesti che salveranno il mondo e in tempo di pandemia omettere le mancanze strutturali e pretendere disciplina e cieca obbedienza a norme che poco hanno a che vedere con la cura collettiva e tutto con il mantenimento dei livelli produttivi. Per questo parlare di capitalocene in luogo di antropocene, ad esempio, ha un peso, perché significa riconoscere nel sistema dell'organizzazione della produzione il cuore della crisi. Di più, significa riconoscere nell'anticapitalismo necessario dei movimenti per la giustizia climatica un terreno su cui costruire, come dicevo, il comune. Un comune a cui partecipano le forme non solo dell'ecologia, ma della giustizia sociale, della giustizia razziale e della lotta al patriarcato. E proprio per questo le forme dell'assemblea che vengono e che devono necessariamente venire devono far tesoro di una critica all'antropocentrismo. La moltitudine deve essere luogo di assemblaggio non solo delle singolarità dei contesti a più avanzato capitalismo, ma deve accogliere nuovi paradigmi epistemologici. Da questo punto di vista, i saperi indigeni devono essere il nuovo orizzonte entro cui costruire delle relazioni biopolitiche, perché rappresentano una risposta reale e concreta al biopotere che, come diceva Negri, ci assembla per ucciderci. La simmetria nel rapporto con la natura non umana annulla qualsiasi margine estrattivista, costringe a ripensare le relazioni produttive e riproduttive, le reti associative. Lo stesso dicasi per la critica transfemminista, che alla logica produttiva oppone il terreno della cura come pratica rivoluzionaria ed elimina l'estrazione di valore dall'equazione relazionale. Una forma del comune, quindi, che parta da elementi come questi, può essere destinata a durare, può produrre istituzioni democratiche davvero in grado di opporsi al regime neoliberista. Dalla prospettiva da cui parlo, che è quella sui movimenti ma dal movimento, rappresento. Aggiungo che l'urgenza di questo assemblaggio è massima. E non solo perché i rapporti dell'IPCC parlano di un punto in non ritorno tra nove anni, ma perché mentre parliamo il sistema capitalista spinge le singolarità verso soluzioni palliative, atte al mantenimento dello status quo. Mi riferisco a quelli che sono gli esiti naturali della sostanzione capitalista della crisi climatica, l'internalizzazione del limite come paradigma di crescita infinita. Di fronte a ciò, la governance costruisce dei tentativi verticali di forme di assemblaggio. Il mito della crescita infinita ha dovuto abbandonare, ad esempio, il terreno dell'estrazione del fossile, ma non prima di poter abbracciare la soluzione della green economy o del sustainable development. Ha dovuto assumere il diritto alla salute, ma non prima di aver imposto il concetto necropolitico ancora una volta e neocoloniale di zona di sacrificio. La passione della resilienza è diventata obiettivo dell'agenda politica. La sostenibilità sinonimo di compensazione. Il capitalismo si è riorganizzato in modo tale da assumere entro i propri confini le proprie contraddizioni, proponendo una versione aggiornata di se stesso. Le frontiere dell'estrattivismo avanzano di pari passo con il greenwashing ed è così che si riesce ad impegnare, ad esempio, una COP nell'attribuzione di uno standard di sostenibilità al gas metano e all'idrogeno blu. È così che il conflitto lavoro-ambiente viene impugnato come giustificazione per licenziamenti di massa e per la soppressione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Ancora di più, è così che i cosiddetti costi della transizione ecologica possono essere scaricati verso il basso, socializzati attraverso la narrativa dei piccoli gesti individuali. Ancora una volta, proviamo a fare un piccolo passo indietro e torniamo a quella specifica riforma di biopotere che è la necropolitica. Il progressivo spostamento delle zone di sacrificio nel sud globale a fronte di corrispondenti investimenti sostenibili in occidente segue esattamente questa traiettoria. Nascondere l'effettiva portata della violenza usata nei confronti delle singolarità, porla lontano dagli occhi, investire in comunicazione per imporre una narrazione diversa. Per questo motivo la prospettiva decoloniale è punto di partenza irrinunciabile nella decostruzione delle spinte assembleari capitaliste e soprattutto nella messa in moto di un libero assemblaggio che faccia del caos intersezione. In uno scenario di questo tipo, in cui la giustizia climatica si fa terreno di convergenza, le singolarità si fanno moltitudine in un orizzonte in cui ad agire la pulsione anticapitalista. Alla moltitudine non spetta il compito di salvare il pianeta, ma di rovesciare il regime ecologico neoliberale. Un obiettivo irrealizzabile senza la decostruzione del paradigma antropocentrico, senza l'assunzione della cura collettiva come pratica rivoluzionaria e fondamento delle reti relazionali e senza la pianificazione di una riconversione ecologica ed energetica basata però sulla ridistribuzione delle ricchezze. Esperienze di questo tipo esistono e credo che la recente gira por la vita condotta dalle ZLN parli di un'esigenza condivisa di renderle durature e soprattutto maggioritarie. A fronte di ciò occorre quindi aprire a forme di organizzazioni nuove che tengano presente la composizione delle singolarità che scegliono di assemblarsi. Bene, mi avvio infine a concludere con quella che vorrei fosse una suggestione. Nel suo ultimo volume Campi magnetici scritti di arte politica Manuel Vieille, direttore del Museo Rina Sofia di Madrid, nel proporre una lettura decoloniale situata degli spazi artistici inserisce quella che a me è parsa una curiosa considerazione. La lingua maia non possiede nessuna parola che significa arte. Al suo posto quelli che noi oggi leggiamo e vediamo come effettivamente gli artifatti vengono definiti in effetti attraverso vocaboli che attingono al campo semantico dell'ecologia. Ecco quindi rifacendomi un po' al titolo di questo ciclo di seminari di Art of the Assembly, mi piaceva concludere con questa immagine, con l'immagine quindi di un assemblaggio ecologico in cui l'arte dei processi effettivamente rivoluzionari possa essere descritta nei termini di una rete di relazioni anticapitaliste e quindi intrinsecamente ecologiche. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e buona prosecuzione. Allora è con grande piacere che ho accettato di intervenire qui a Venezia su un argomento che da 50 anni al Morion dintorni si è discusso. Dico 50 anni, Morion non c'era ancora ma comunque dintorni sì. E infatti ragionando sulla trasformazione del soggetto produttivo dalla classe operaia alla moltitudine dei lavoratori e dalla natura del lavoro produttivo dal fabbricato al linguistico dal materiale all'immateriale e infine del suo spazio dalla fabbrica alla società intera che il grande movimento degli anni 70 si era aperto alla lotta rivoluzionaria. Fu represso nella galera nel sangue e dovremo tornare presto credo, spero presto, su quegli episodi per farne giustizia. Ma ora guardiamo come ci è proposto all'arte dell'assemblea e al modo in cui questo argomento moltitudinario si è posto laicamente al centro della discussione quando il movimento di un movimento sono rinati e oggi stanno nuovamente presentandosi dinanzi a questo tema, come divenire forza politica. Nel 1999 Luc Boltanski e Eve Chapeleau pubblicano Il nuovo spirito del capitalismo. In quel bel libro insistono su una nuova critica del modo di produrre, sulla rottura della centralità della fabbrica e della catena di montaggio e di contro sulla parire della precarietà del rapporto salariale e soprattutto sulla soggettivazione del lavoro produttivo. Una soggettivazione che è resa evidente ed impetuosa dal manifestarsi del carattere immateriale cognitivo delle merci e servizi che erano prodotti. Una soggettivazione che si dava nelle metropoli dove negli spazi digitali si presentava l'opportunità di sviluppare iniziative indipendenti che, nella lettura di Boltanski e Chapeleau, definivano il mondo del lavoro, cioè il mercato, come uno spazio immateriale, diffuso, polifonico e appunto fortemente soggettivato. Nel rinnovare l'approccio all'analisi del lavoro, Boltanski e Chapeleau propongono un processo critico che chiamano artistico, ispirato al 68, alle grandi esperienze del 68. Questo nuovo modo di lavorare che la critica artistica indicava si trasformava in un modo di produrre, diverso da quello fornista, taylorista del moderno, attraverso un libero assemblaggio sociale. L'arte dell'assemblea costituiva dunque il leitmotiv di una nuova ontologia del lavoro su una scena dominata dalla critica artistica e qualificata da una relativa liberazione del lavoro al fine di costruire una libera società futura. Ci indicavano in tal modo, Boltanski e Chapeleau, un mondo utopico? Non credo si debba rispondere solo positivamente a questa questione. Era piuttosto posto semplicemente alla maniera della grande sociologia del XIX secolo un modo di presentarci una variante metodica del tipo ideale della liberazione dal lavoro quale era stata immaginata nel 68. Un'utopia, certo, ma come sempre con un briciolo di verità, come sempre dentro l'utopia c'è un briciolo di verità, un tipo ideale e quindi un'astrazione di qualche cosa di vero. Che cosa allora era la verità preannunciata da quell'assemblaggio artistico? Che cosa scaturiva, sostituiva, scusate, nel nuovo modo di lavorare il comportamento artistico a quello disciplinato precedentemente dal lavoratore industriale? La novità stava nel fatto che la moltitudine di attori di quel nuovo fare artistico non si ammucchiava più nella massa, ma si presentavano, fosseppure in maniera confusa, come singolarità che si associavano. La moltitudine, impegnata nelle nuove catene della produzione, non faceva massa, ma associazione. Associazione di prestazioni singolari di lavoro e di esperienze di vita che si presentavano come relazione e servizi immateriali, attività intellettuali, soggettivazioni produttive. Quanto era determinante questo muoversi singolare, della, nella moltitudine, nel definire un nuovo secolo? Lo avevano ben compreso, Chiappellù, Boltanski, non si poteva tornare indietro. Una nuova epoca si era aperta. Eppure, Boltanski e Chiappellù non ci avevano avvertito che dentro queste reti associative e sopra di esse, era nel frattempo venuto formandosi un potere capace di adeguare e rendere sempre più forte e violento l'opera di controllo su quei movimenti e sulla loro vita. Ci avevano offerto il tipo ideale della rete associata del lavoro soggettivato, assemblato, ma non avevano abbastanza riflettuto sull'altro aspetto della grande trasformazione del modo di produrre, su come la vita degli uomini fosse stata messa in gioco in questa trasformazione. Mancava ancora Foucault, potremmo aggiungere oggi. Foucault ci insegna infatti come proprio in questa situazione apparisse un potere che, adeguandosi al nuovo movimento della produzione, strisciava sulla vita e mano a mano la avvolgeva. Così come fosse un gigantesco serpente, un potere che ormai arrivava ad intingere il suo comando nella vita e poteva controllarla, quando fosse confrontato ad una moltitudine ricca sì di nuove energie, vitali, artistiche, espressive, produttive, ma ancora priva di una capacità adeguata di resistenza e di autonomia. Il quadro era asimmetrico, profondamente inclinato sul lato del potere. La tragedia del postmoderno si definiva attorno a questa determinazione, al risalto che di nuovo, come già avvenuto nel moderno, il dominio prendeva sull'insieme degli attori della crescita economica e civile della società. Nel moderno il dominio si dava sulla massa dei lavoratori, nel postmoderno esso si esercita su una moltitudine di vite produttive e riproduttive della società. Nel vecchio sistema era sfruttamento, nel presente è estrazione di valore. Se ora, tenuto presente quel panorama del postmoderno che abbiamo tratteggiato dalle tipologie immaginate, scendiamo nel reale e guardiamo la storia dei primi due decenni del nostro nuovo secolo, possiamo osservare quanto, a partire da quel preannuncio santottesco e per l'Italia da quel preannuncio dei settanta, si è venuta declinando, si è venuta meno declinando l'idea di un affermarsi artistico del lavoro e della vita, quanto invece si siano potentemente imposte nuove forme di disciplina e di controllo. Se la sociologia ci mostrava quanto mutato fosse il tessuto della produzione e se l'analisi dei processi riproduttivi andavano a dispiegarsi sul nuovo tessuto di più vaste reti di socializzazione, non c'era più libertà in questa trasformazione, non c'era un ben vivere più felice di prima, al contrario c'era meno libertà e buon vivere e si era esteso e intensificato il dominio sulla moltitudine confusa che quella trasformazione aveva prodotto. Ma la moltitudine, questo grande insieme biopolitico di singolarità, non è solo rotta o dissipata o confusa dal rapporto di forza che il potere le impone. Le singolarità sono soggettivate, il desiderio e la paura stanno dentro i loro rapporti e ne contrassegnano la volontà e il risultato delle azioni. Quando il biopotere si muove vincente, la paura, allora, invade i rapporti delle potenze singolari delle moltitudini, nella moltitudine. Gli aspetti malati prevalgono, la separazione e il pessimismo vegemonizzano l'opinione e dirigono i comportamenti. Di nuovo, quando vince la paura, non c'è più libertà, non c'è più resistenza. Talora vige una passione ignobile che chiamano resilienza, una stanca consapevolezza di impotenza. Quale immagine di questa trasformazione più nefasta di quella offerta dalla pandemia di Covid, quando la potenza produttiva della moltitudine viene ingabbiata dentro macchine disciplinari e gabbie di controllo che tolgono ogni forza creativa ed ogni desiderio associativo alle singolarità lì imprigionate? E ancora, quale più terribile aspettativa o incubo crescente quando riconosciamo nell'immaginario della pandemia il sintomo di una irrisolvibile crisi climatica che alla prima sta dietro ed il preannuncio di intrecci con perduranti approfondite crisi sociali di razza e di genere? Quell'assemblaggio uccide l'orizzonte è fosco. Quando ci muoviamo su questo percorso e ci affanniamo dietro alle difficoltà che troviamo avvertiamo tuttavia se non ne siamo stati travolti e riusciamo a tenere i piedi per terra il cumulo di resistenza che lo svolgersi di quella storia determina. Udiamo il rumore della battaglia ci ricorda Foucault e quel rumore e l'intensità della resistenza degli uomini contro quel procedere di un assemblaggio che domina e uccide lo sentiamo tanto più forte quanto più il processo avanza e la sua dimensione biopolitica si accentua. non apparirà paradossale dunque il fatto che soprattutto nella pandemia quando il pericolo è diventato più grande il riappaia con maggiore intensità la resistenza la nostra resistenza. sono medici che tentano di salvare vite compromesse dall'assemblaggio produttivo sono scienziati che comprendono il pericolo e ci indicano i modi di salvare le vite sono gruppi di persone che si associano per aiutare i poveri e le persone isolate dalla malattia e dalla vecchiaia e strapparle alla morte è insomma una rivolta nel biopolitico contro quel biopotere che ci assembla per ucciderci questa resistenza diventa evidente e mostra la sua forza sul punto più alto della tendenza del biopotere all'osseggettamento insorge là dove la moltitudine ci ha condotto ed è stata condotta potete stupire che nella confusione che spesso si rivela nei comportamenti della moltitudine in questa fase di fortissimo conflitto tra le forze che costringono l'assemblaggio delle singolarità sotto la governance produttiva e le potenze che contro quel dominio costruiscono cooperazione agiscono per il bene comune no davvero la confusione è grande cosa è rimasta a questo punto della critica artistica di Boltanski che appello resta ben poco ma quel poco va comunque pur faticosamente recuperato dentro il caos nel quale il biopotere sa spingere la moltitudine siamo nel caos siamo nel caos mi appunto nel caos che la moltitudine può dare battaglia e come la dà per produrre comune e suddividerlo fra tutti e cercare ben vivere e felicità ed è nella battaglia per esempio per un vaccino comune strappato alla proprietà privata e alla predisposizione gerarchica dei governi è in questa battaglia che il comune è costruito costruendo il comune noi strappiamo alla paura il tempo a venire perché è solo quando il futuro non fa più paura che il presente assume valore e la storia che si apre davanti a noi assume significato è contro la paura contro la resilienza che un sano rapporto dell'uomo e della natura e delle giuste pratiche del rapporto fra uomo e natura possono essere instaurate dentro quel comune che ci avvolge contro il biopotere ci muoviamo dunque per costruire una biopolitica della libertà anch'essa artistica come la volevano Boltaschi Giappello ma chiarendo che questo carattere artistico che la libertà costruisce per l'attività umana è possibile solo quando il comune è l'operatore della storia e la moltitudine è la sua figura per chiudere questo intervento lasciatemi ricordare un autore che mi è caro Benedetto Spinosa ed un'opera che gli scrisse che sta alla base già nel seicento di quell'illuminismo della libertà che permise nei secoli successivi di costruire resistenza e rivoluzione il Tractatus Teologico Politicus ebbene Spinosa definisce in quel libro tre forme di obbedienza cioè tre forme di socialità che sono le tre forme di costruzione del comune traendole dalla Bibbia dalla storia degli ebrei la prima forma di obbedienza è quella che nella paura e nella disperazione dell'esodo il volgo tribale subisce accettando il comando del Sinai l'ordine è così imposto dall'alto la seconda forma di obbedienza è quella che il popolo di Israele concede ai suoi re confidando loro la sovranità attraverso il consenso ma la terza fondamentale e finale forma di obbedienza è quella che la moltitudine nel suo interno rapporto relazionale solidale stabilisce nella concordia comune e nella pace della città essa è profetizzata ci dice Spinosa dal Cristo l'amore cristiano diventa così la base di quell'obbedienza accordo che muove i movimenti laici materialisti atei che sostengono libertà ed eguaglianza non è un paradosso ma è una storia che abbiamo cominciato a vivere è un'esperienza che apre al futuro è dunque il comune che fonda la vera libertà nell'amore reciproco e nell'onore concesso all'Assemblea degli Uomini Liberi ed è su questo terreno che i movimenti potranno fare forza politica costruire forza politica quando avranno maturato la loro molteplicità all'interno della moltitudine eliminando il caos dell'intersezione con la forza però di questa intersezione di tutti i movimenti sia di razza di genere sociali che esprimano bisogni e desideri del comune con l'intelligenza di comprendere regolari i tempi dei processi di lotta contro il nemico e con la capacità di dare speranza alle lotte e di cancellare il termine resilienza dal vocabolario grazie allora intanto ti saluto e devo dirti che sono felicissime siamo felicissimi qua al Morion che tu abbia accettato il nostro invito quindi davvero grazie grazie mille grande gratitudine allora io comincio con alcune domande che naturalmente ai nostri due ospiti che naturalmente riprendono i temi che sono stati trattati nei loro interventi parto da Tony la prima è per te in un passaggio del video dici che l'orizzonte è fosco però credo che non dobbiamo distogliere lo sguardo in effetti la moltitudine perlomeno in Europa e in Occidente oggi sembra attraversata da tensioni reazionarie e spesso veicola un'idea di libertà individualistica e priva di solidarietà ne accennava Anna Clara e ne ha scritto recentemente Sergio Bologno in alcuni articoli credo illuminanti una concezione di libertà intrecciata a varie forme di complottismo e di rifiuto dei saperi scientifici che non di rado si trova a proprio agio ad essere maneggiata anche dai fascisti ecco io credo che non siano però i gruppi storici dell'estrema destra il dato più inquietante e qui arriva la domanda possiamo affermare che la pandemia anche qui da noi in Europa stia accelerando un fenomeno di trampizzazione delle moltitudini o siamo di fronte a qualcosa di diverso? ma sai parlare di trampizzazione di tramp è un po' mettere tramp in tutti in tutti in tutte le colazioni in tutte le in tutte le un po' dappertutto fanno traccimare quella che è la situazione nella quale il trampismo si è formato e si è organizzato direi comunque che una preoccupazione seria è quella che tu sollevi chiamiamolo Trump o no è una preoccupazione che che deriva secondo me da una da un nostro disagio anche da un disorientamento che troviamo nell'attuale situazione bisogna starci attenti perché da un lato la malattia c'è è pesante è forte la pandemia esiste e come i morti sono tanti d'altra parte è fuori dubbio che c'è stata un'operazione di governo un'operazione capitalista di cattura della cura ed è un'operazione che alla quale siamo obbligati a concedere il passaggio a concedere ne va della vita ma è appunto su questa situazione che il disagio e il disorientamento si determinano e tutto questo è aumentato dal fatto che quest'operazione di governo di governance sistematica continua che è quella di assumere la pandemia come elemento di rafforzamento del governo e di impedirsi ovviamente sulla base di un ricatto perché il ricatto è quello della della morte di resistere ecco questa è una situazione che è una situazione data ed è una situazione nella quale si tratta di capire fino a che punto si riesce a a smascherare prima di tutto questo tipo di operazione questo non significa tutti noi dobbiamo farne due tre dieci di punture di vaccino non è sicuramente il vax che è in ballo è in ballo il tipo di controllo il tipo di organizzazione che da parte dello Stato viene imposta a questa alla moltitudine di cui noi siamo partecipi in quanto singolarità attive e bisogna stare molto attenti a muoversi dentro questa situazione perché io sono d'accordo per esempio con quanto diceva la mia correlatrice su la trasformazione un po' alla volta di questo stato di eccezione in uno stato di accettazione cronica continua di una regola di potere da uno stato di eccezione eventuale ad uno stato di accettazione cronico e continuo su quale per esempio la resilienza è appunto organizzata la resilienza è questa guardate ben bene che la resilienza il piano che Draghi sta oggi sviluppando è un piano di risposta che si chiama di ricostruzione di resilienza RR alla fine della sigla la resilienza è veramente l'elemento centrale sul quale questi tentano di promuovere dietro un'azione di cura lo smantellamento del sistema di welfare attraverso le sue privatizzazioni e via di questo passo cioè cercano veramente di rimuovere quelle che sono le nostre difese ora questo è il problema sul quale noi dobbiamo prima di tutto insistere certo la moltitudine è fosca ma è fosca dentro un gioco che è un gioco che va smascherato io non so io vengo da un periodo mi assicuro sono nato negli anni trenta alla fine della guerra avevo quindici anni 10 tra i 10 e i 15 anni e i comportamenti erano dei comportamenti più o meno di costrizione e di e di cecità ecco come quelli che oggi abbiamo come quelli che oggi verifichiamo ma li abbiamo superati li abbiamo superati come? li abbiamo superati attraverso quella che è stata la capacità era la capacità di associarci di muoverci di inventare ideologia di inventare prospettive di sviluppo prospettive di lotta altrimenti attenti non so io di fianco per esempio quando ho sentito per esempio parlare appunto giustamente di questa accettazione di questo stato di accettazione che dal quale non c'è modo di srompere mi è venuto in mente appunto le posizioni membre o altri 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 autori di quello che chiamano l'African pessimism che sono che sono che sono che vedono veramente la situazione attuale come una situazione tanatologica una situazione di morte in maniera quasi inevitabile come se per esempio per quanto riguarda veramente la condizione la condizione nera non ci fosse possibilità alcuna di rottura la situazione fosca senza rottura una situazione che è quella del suicidio no ecco questo bisogna assolutamente romperla con la resilienza romperla con l'apologia di questa situazione nella quale siamo ingabbiati siamo in una situazione che la moltitudine non è diventata così la moltitudine è sempre due cose una positiva e una negativa oggi indubbiamente più negativa che positiva ma lo spazio nel quale bisogna abbattersi è questo ed è uno spazio che è aperto comunque aperto la contraddizione comunque c'è e non bisogna soprattutto tornare alla normale perché era la normale quella che faceva problema come dicono tutti i nostri compagni di America Latina grazie mille Tony e sulla cattura capitalistica della cura aprirò proprio la seconda domanda che ti porrò dopo Anna Clara ma con Anna Clara rimaniamo in tema perché tu dici e tu sei sempre stato credo assolutamente correttamente qualcuno che di fronte alle difficoltà ha sempre indicato di non distogliere lo sguardo ma di guardare nel cuore della catastrofe lo hai fatto negli anni 80 con il postmoderno lo rifai adesso credo che questa sia sempre un'indicazione importante allora parliamo di spazi appunto che si aprono spazi moltitudinari parliamo del lato come dire del lato positivo e non negativo delle moltitudini e qui passo alla prima domanda ad Anna Clara Rise Up for Climate Justice che è il movimento climatico di cui fai parte scommette che uno dei terreni privilegiati proprio per il rilancio della produzione del comune sia quello della giustizia climatica allora dal tuo punto di vista perché una prospettiva anticapitalista che guarda quindi alla produzione del comune non può fare a meno di investire in questo terreno di lotta dunque anzitutto grazie Marco grazie a Tony Negri e insomma tutte le persone che hanno reso possibile l'appuntamento di oggi per provare a rispondere alla tua domanda in realtà mi viene quasi da dire che è una domanda estremamente semplice nel senso che non credo sia possibile concepire una lotta per la giustizia climatica che non contempli naturalmente un elemento intrinsecamente anticapitalista per provare ad articolare un pochettino meglio diciamo questa cosa che appunto da una prospettiva situata come la mia quindi dall'interno dei movimenti appare come un'ovvietà mi viene da dire che forse basta partire da una semplicissima considerazione che è quella legata appunto un po' alla mission per usare un termine che piace effettivamente al capitale del capitalismo stesso ovvero sia l'accumulazione infinita tendenziale ma senza ma è fine di valore un'accumulazione che passa appunto dall'estrazione di valore dai corpi dai territori dalla realtà dagli animali umani e non umani e quant'altro se noi partiamo da questo paradigma inevitabilmente ci rendiamo conto che il terreno della giustizia climatica è un terreno che si sottrae a questa logica nel senso che il terreno della giustizia climatica prevede naturalmente che appunto l'ecologia il sistema ecologico venga mantenuto e venga sottratto dalla logica dell'accumulazione di valore per questo appunto mi viene quasi da dire che è un'ovvietà un'ovvietà forse non non completamente recepita o non maggioritaria quantomeno nel senso che sempre più spesso appunto lo ricordavamo anche poco fa con la domanda che posto a toni negri il concetto di ambientalismo di ecologia viene effettivamente associato a quello di resilienza per cui la resilienza si fa sostanzialmente uno strumento ancora una volta neoliberale o comunque ad uso e consumo della governance per cui di fatto possiamo scendere a patti possiamo di fatto accettare delle forme di compromesso delle forme di mitigazione anche alle volte della crisi climatica in attesa che il capitalismo raggiunga uno stato tale per cui è possibile continuare a produrre a svilupparsi a crescere ma in maniera assolutamente sostenibile ecco questa è la favola bella appunto cui il capitalismo tenta di rispondere è un argomento in realtà su cui potremmo discutere appunto moltissimo un'ultima cosa appunto che mi viene forse credo possa essere utile un attimino per tracciare il quadro è anche una risposta un po' più storica appunto per mettere in campo un po' anche la prospettiva che maggiormente mi appartiene ora il dibattito specifico sulle origini del capitalismo è in realtà un dibattito ampissimo che trova diverse posizioni diverse risposte altrettanto aperto è il dibattito sull'origine del cosiddetto capitalocene quindi quell'era geologica all'interno del quale il fattore capitalista la produzione capitalista si fa maggiore agente modificante appunto sulla natura all'interno di questo dibattito una delle risposte vede appunto nell'origine di questa era geologica la nascita dello sviluppo massivo diciamo dell'attività mineraria in Germania risalente appunto agli inizi del del cinquecento a fronte di questa lettura abbiamo un'altra testimonianza coeva appunto una storia anche qui letta riletta e su questo potremmo discutere a lungo ma non è questa la sede appunto sul movimento sulla rivolta dei contadini guidati appunto da questo anabattista Thomas Münzer il quale all'interno di alcuni suoi scritti all'interno dei quali appunto lui osteggia naturalmente quello che è il potere dei principi quello che è in qualche modo l'assetto governamentale che la Germania sta prendendo lui rivendica il diritto a liberare l'aria l'acqua gli uccelli gli animali tutti rivendicando quindi di pari passo noi vediamo come da un lato effettivamente aumenti quel modello nasca e aumenti si sviluppi quel modello estrattivista che appunto produce poi la crisi climatica e la esaspera e dall'altro il nascere di una rivendicazione che è assolutamente attuale quindi per concludere ecco mi viene da dire che forse anticapitalismo e giustizia climatica sono una coppia antinomica che nasce ecco fin dalle origini grazie mille Anna Clara per aver introdotto questo tema questo tema del capitale ocene della giustizia climatica che io penso un terreno di alternativa in cui la produzione del comune deve ingaggiare battaglia dentro questo caos a cui continuiamo a riferirci in questa discussione riprendiamo il filo di quello che Tony stava dicendo parliamo di diritto alla salute io penso che l'ordine del discorso imposto da alcune piazze dai media e dai governi neoliberali sia profondamente deprimente la salute ridotta a fatto individuale e in questo senso sanità neoliberale posizioni novax si trovano paradossalmente a coincidere eppure la storia del movimento operaio è ricchissima di lotte che hanno interpretato la salute come questione di classe basta pensare alle lotte di Porto Marghera nel ciclo della chimica contro la nocività o magari che hanno interpretato la salute come questione di genere da un punto di vista di genere basti pensare al femminismo italiano delle origini e non solo a Tony chiedo cosa dobbiamo recuperare di queste storie per imporre un diverso ordine del discorso per spostare il fuoco per esempio sui brevetti dei vaccini sulle asimmetrie neocoloniali della sua distribuzione sulla necessità di una sanità pubblica all'altezza a misura di territorio e in grado di tenere assieme dimensione sociale e dimensione sanitarie cioè c'è qualcosa che ci stiamo dimenticando della nostra storia della storia dei movimenti della storia della classe operaia delle femministe c'è qualcosa che ci stiamo dimenticando e che potrebbe essere utile a riattivare dei percorsi di produzione di comune mi sembra molto bella quella cosa che è stata ricordata a proposito dei contadini di Thomas Winsler mi piace moltissimo perché si tratta non c'è molta differenza la guerra dei trent'anni è 1618 1648 Thomas Winsler è all'interno di questa guerra di questa guerra feroce che distrugge e c'è anche Spinosa quando prima citavo Spinosa citavo oltre il volgo oltre il popolo c'è la moltitudine la moltitudine che nasce nel caos nel caos della guerra nel caos del mercato dell'accumulazione originaria e c'è questa moltitudine che ha però dietro di sé una parola che è una parola che è la parola è una parola francescana è la parola praticamente del Cristo ma è anche quella delle sette delle sette protestanti che derivano appunto il loro discorso derivano comunque l'hanno costruito il loro discorso assieme a Thomas Winsler da questo punto di vista vedo che c'è un accordo profondo su questo snodo storico centrale che è appunto all'inizio del Seicento sulla accumulazione primitiva da un lato e dall'altra parte su una grande apertura alla natura e alla questa apertura proprio alla libertà della natura ecco però dobbiamo dimenticare che la libertà della natura è anche sempre in discussione è sempre perché nella natura c'è anche la malattia c'è nel rapporto che l'uomo ha con la natura c'è sempre un filtro che è più o meno naturale che però può diventare assassino la storia del movimento operaio è indubbiamente in particolare quella che abbiamo vissuto noi parlare nello storia del movimento operaio negli anni 70 nel Veneto attorno da questo punto di vista è stata di un'importanza enorme la lotta contro appunto contro la lotta condotta badate bene non dal movimento operaio perché nel sindacato si facevano i contratti si facevano i contratti e si davano 50 lire in più se si accettava se si accettava di farsi avvelenare dall'impianto chimico ma il comitato operaio quello no non lo voleva e fece una battaglia feroce fino a impiantare un Gesù Cristo su cui c'era Italo sbronciò ecco cioè il capo del comitato davanti davanti alla porta di Marghera contro l'appunto la contro la 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 nocività e e poi le ragazze le compagnie Maria Rosa dalla Costa e tutto il lavoro fatto dalle donne su questo terreno è stato un lavoro enorme che è inventato contro diciamo così il femminismo identitarista ma anche all'interno del femminismo identitarista ma comunque oggi è diventato ovviamente la frangia più importante del femminismo a livello internazionale ed è stato un discorso fatto fondamentalmente appunto su quella che era la struttura della sanità per le donne inizialmente i primi nuclei contro l'aborto e contro il divieto d'aborto e di questo passo costruite queste donne ma mi vengono in mente altre cose molto importanti sempre su questo terreno e sempre per uscire per dare una via interna a questa fosca moltitudine da cui si può uscire pensate per esempio alla lotta contro l'AIDS l'AIDS si dice AIDS non è in italiano si dà in francese si dice si dà ecco pensate alla lotta contro si dà a quello che ha contribuito diciamo così a determinare l'inversione in molti sensi del rapporto tra medicina e attività del malato attività di cura del malato conquista della possibilità della capacità di cura da parte del malato e questo qui è una cosa di una importanza enorme è stata e ma al di là di questo io non so ho un altro ricordo formidabile di una lotta dell'infermiere uno grande sciopero dell'infermiere dei grandi ospedali parigini durante il mio primo periodo qui in Francia alla fine degli anni 80 praticamente dove lo sciopero degli ospedali era collegato alla costruzione di consultori di consultori che l'infermiere e i medici più giovani facevano nei quartieri accanto all'ospedale per trattare veramente l'umanizzazione della cura ecco tutto questo era veramente un tentativo di recupero di recupero di recupero ai movimenti alla spontaneità dei movimenti alla loro ricchezza umana della capacità di curare di muoversi di andare avanti ed è questo mi sembra una cosa di una di un'importanza enorme perché se è vero quel capitale si estende su tutta la società e ovunque estrae estrae valore e bisogna anche ricordare un'altra cosa che lo estrae sempre dal lavoratore che il capitale è sempre fatto di due cose da una parte è capitale costante capitale fisso dall'altra parte è capitale variabile lavoro vivo ed è la nostra capacità di far vivere il lavoro vivo scusate la la banalità della proposizione ecco la nostra capacità di mettere in atto il lavoro vivo a fronte di tutte le regole che gli stanno attorno che ci dà la strada che ci indica la strada il telos rispetto alla quale possiamo muoverci in questa battaglia è fuori dubbio che dobbiamo recuperare la memoria delle lotte e il senso collettivo del diritto alla salute su questo ma questo si fa solamente appunto per esempio esaltando tutte quelle cose che sono state già fatte da parte dei movimenti e guardate bene io non sono seguiti qui in Francia sono state cose enormi ci sono interi quartieri che sono stati seguiti appunto da giovani antifascisti o da 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 brigate di 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 compagni studenti che aiutavano vecchi e giovani e chi non poteva più sa farcela a tirarsi fuori nel lockdown ecco tutto questo è possibile tutto questo deve organizzarsi dove dovremmo essere capaci di rovesciare quello che è lo stato di accettazione non lo stato di resistenza è l'unica strada che abbiamo da percorrere e spero che si possa in qualche maniera percorrere grazie grazie Toni ti riferisco a delle importantissime esperienze di mutualismo si sono date naturalmente in tutta Italia e anche qui a nord-est nel nostro piccolo durante la prima e la seconda ondata sono state messe in piedi importanti direi più che azioni una vera e propria rete regionale di mutualismo che ha coinvolto sette città del nord-est lì è stato un momento in cui davvero appunto non solo qui ma dappertutto si è si è notato davvero come sia possibile la resistenza la produzione di comune e l'assemblaggio positivo anche dentro anche dentro la pandemia ti riferivi a proposito di arte dell'assemblea ti riferivi al manichino in maschera antigas piantato di fronte al petrolchimico mi piace ricordare quell'intervento quella quella performance è stata una performance portata avanti dall'assemblea autonoma di Porto Marghera insieme a Giovanni Rubino artista che è scomparso pochi giorni fa due settimane fa e che era intitolata Mort Edison proprio per denunciare la nocività del petrolchimico bene torno da te Anna un altro dei concetti chiave della tua relazione è stato quello del è stato il tema della sussunzione del limite da parte del rapporto di capitale ovvero in parole povere come concetti quali green economy e capitalismo sostenibile indicano in realtà un terreno di nuova accumulazione la resilienza ecco che Tony chiamava in causa puoi approfondire questo questo tema certo dunque quando si parla appunto di green economy di capitalismo sostenibile e quant'altro il primo esempio che veramente mi viene sempre da fare è che se noi guardassimo mediamente alla produzione di commercial di pubblicità oggi giorno dovremmo pensare sostanzialmente di aver vinto nel senso che se noi guardiamo le pubblicità delle cause automobilistiche scopriamo che per salvare il mondo basta comprare una nuova auto che è elettrica se guardiamo quello che ci dice Whirlpool scopriamo che per salvare il mondo basta comprare un nuovo frigorifero scopriamo che fare una raccolta differenziata è veramente l'orizzonte rivoluzionario verso cui tendere e via discorrendo perché dico che guardando tutto questo sembra che abbiamo vinto perché di fatto tutto questo è l'impianto comunicativo che il capitalismo porta avanti in questo momento e che ci dice sostanzialmente il vostro futuro è verde è sostenibile tutto quello che dovete fare per vivere meglio più felici in una società più giusta è prendere una serie di provvedimenti che noi vi mettiamo a disposizione quindi a partire da questo che appunto è un dato esperienziale che possiamo fare mediamente tutti guardando i grandi cartelloni sulle nostre autostrade o accendendo la tv o ascoltando alcune radio a partire da questo si apre come dire uno scenario un po' più profondo decisamente più preoccupante per quel che mi riguarda e che appunto riguarda una vera e propria di sistematica ristrutturazione del capitalismo intorno a nodi che via via vengono definiti appunto come sostenibili oggi giorno noi non ci troviamo davanti a un meeting di tutti i petrolieri una cosa di questo tipo la governance non la può fare anche perché se no sarebbe molto facile come dire proporre e produrre forme di appunto di assemblaggio sociale in quella direzione oggi giorno la governance propone appunto una copo una discussione all'interno della quale però che cosa si va a discutere si va a discutere di come gli investimenti ad esempio sul metano sull'idrogeno che gli stati hanno già fatto possano a posteriori essere definiti sostenibili ma c'è di peggio ad esempio e qui provo un attimino a ricollegarmi a un discorso che in parte ho provato ad abbozzare prima un'altra delle frontiere della cosiddetta green economy sta nel commercio di emissioni che cosa vuol dire vuol dire che il capitale ha aperto un fronte appunto di scambio di flusso finanziario per cui ogni paese ha a disposizione un tot di gettoni per emissioni clima alteranti quelle che avanza perché appunto sviluppa delle tecnologie sostenibili per cui abbatte riduce quantomeno alcuni effetti alcune emissioni clima alteranti ecco questi gettoni può venderli su altri mercati quali sono questi altri mercati ovviamente quelli dei paesi a più basso diciamo avanzamento capitalista per cui i paesi del sud globale quindi sostanzialmente quello che noi stiamo quello che è stato costruito è veramente un mercato in cui ci arroghiamo il diritto di inquinare altrove e quell'altrove quella zona di sacrificio che guarda caso va sempre a coincidere con quelle zone che appunto sono state colonizzate da cui è stato estratto valore molto spesso come veniva giustamente detto in termini di lavoro vivo schiavizzato però e quant'altro sono queste effettivamente le frontiere verso la cui la green economy o il cosiddetto appunto sviluppo sostenibile tende non sono delle frontiere realmente sostenibili per quello purtroppo o per fortuna vi viene a dire serve oggettivamente un ribaltamento del modello di sviluppo del modello di produzione credo che sia molto interessante appunto questo questo parallelismo questo appunto rendersi conto di come effettivamente i territori colonizzati vanno ancora una volta a configurarsi come dei luoghi appunto di estrazione di valore qui a Venezia appunto negli anni settanta si denunciava quelli che erano gli effetti sulla salute delle emissioni del petrolchimico pochi anni fa è stata fatta una manifestazione un blocco nei confronti sempre di una raffineria questa volta di Eni non di Montedison una raffineria che guarda caso era appena stata trasformata in bio raffineria per cui la narrazione dominante era sul fatto che quello fosse effettivamente un sito sostenibile un sito avanzato ma in realtà quello nascondeva semplicemente il fatto che nel frattempo in Nigeria la stessa compagnia stava di fatto distruggendo un intero ecosistema causando guerre civili causando migrazioni di massa flussi migratori che poi ovviamente si rivolgono al nord globale innescando una catena appunto di reazioni che proviene esattamente da questo sia dal fatto che il capitalismo per provare a mantenere appunto il proprio stato di salute o quantomeno il proprio livello di vita deve costantemente sussumere i propri limiti volevo fare una velocissima conclusione per riallacciarmi un pochettino alla domanda appunto che ponevi poc'anzia a toni negri il fatto che il capitalismo appunto abbia come obiettivo la propria sopravvivenza la pandemia credo ce l'abbia dimostrato molto bene la pandemia che cosa ha fatto sostanzialmente è stata innescata da uno spillover lo spillover avviene in un ambiente in cui il rapporto ecosistemico viene completamente alterato e viene alterato perché gli interessi appunto produttivi sono di altra natura e una pandemia come quella a cui abbiamo assistito in cui siamo ancora purtroppo immersi mette a repentaglio l'esistenza stessa della vita sul pianeta ora posto che la crisi climatica fa esattamente la stessa cosa il capitalismo da questo punto di vista è stato appunto la matrice che l'ha innescato e questo ci dice anche che il capitalismo pur di mantenere appunto la propria vitalità la propria esistenza è disposto a mettere a repentaglio l'esistenza e la vita stessa sul pianeta grazie grazie mille Anna davvero siamo passati al tema dell'estrattivismo hai citato il divide tra nord globale e sud globale lo spostamento verso sud delle zone di sacrificio e mi collego a questa per l'ultima domanda a Tony poi avremo credo il tempo per un paio di domande anche dal pubblico l'ultima domanda a Tony che esula in parte ma neanche troppo dai temi che siamo soliti discutere e nasce da un'esperienza recente che abbiamo avuto sempre qui a Venezia cioè la recente visita di una ventina di compagni e compagne dal Chiapas che abbiamo ospitato in occasione appunto della Chira Zapatista allora nel vostro libro intitolato Comune Tony tu e Michael affermavate l'importanza dello Zapatismo in quanto lotta che rompe il binarismo modernità antimodernità in quanto lotta in cui non si rivendica il diritto di essere ciò che si è ma quello di diventare ciò che si vuole cioè oltre la cosiddetta identity politics mi pare questa sia una considerazione molto importante ma voglio chiederti una cosa in più alla luce della crisi climatica e io anche credo di una nostra inabitudine in qualche modo a leggere il capitalismo in quanto regime ecologico non pensi che le epistemologie di diversi popoli indigeni caratterizzate da un rapporto non estrattivo ma diplomatico con la natura non umana oggi acquistino una nuova centralità una nuova luce che ancora più come dire rende queste epistemologie protagoniste di un'alter modernità o di un'alter non lo so o di un'alter pandemia non so dove siamo ma insomma credo la domanda sia chiara oltre a dirti che sono completamente d'accordo su quanto prima quanto da ultimo ha detto la compagna che interviene accanto a me cioè su questa capacità effettivamente capitalista di rioccupare degli spazi che indica come spazi liberi ecco su questo mi sembra che lo sviluppo capitalistico sia fatto in questa maniera oggi viene accentuata in maniera assolutamente massiccia c'è una normalità che è una normalità che viene normalmente oltrepassata e ricostruita e questo mi sembra che sia l'elemento da tenere presente in maniera assolutamente fondamentale a cui si può effettivamente collegare l'insieme appunto dei fenomeni climatici come dei fenomeni di distruzione della natura in termini estrattivi che l'alternativa consista in un rapporto diplomatico con Pachamama ecco su questo ho qualche o qualche dubbio sono abbastanza convinto che che la natura vada rispettata fino in fondo sono anche convinto che le tecnologie devono essere piegate al volere delle popolazioni in una discussione continua nella quale nella quale la caratteristica il modo sia democratico e una soggettività sia il Pachamama sia l'ingresso della natura come soggetto all'interno della discussione di queste cose ho discusso a lungo purtroppo non sono mai stato nel Chiapas come avrei desiderato a suo tempo ma per come al solito capita certe volte capita di non poter fare cose che si desiderano ma sono stato per esempio a lungo sia in Bolivia che in Ecuador di fronte sia in Bolivia all'interno di quello che è stato il processo costituzionale boliviano in cui appunto le associazioni indigene e le popolazioni indigene erano assai impegnate nella difesa di alcuni alcuni elementi che non potevano essere superati così dai processi estrattivi sia in Ecuador dove il processo addirittura del Pachamama e la nuova costituzione lì non ho fatto parte del movimento dei lavori costituzionali ma ho però partecipato a discussioni che erano in particolare con i rappresentanti delle popolazioni indigene che erano che erano veramente delle cose estremamente interessanti voi sapete che appunto nella costituzione dell'Equador è stata assunta la natura come soggetto come soggetto col quale trattare il rapporto non è più diplomatico ma è costituzionale che è un pochino di più che è più diplomatico ecco su questa cosa si sono sviluppate poi tradimenti mistificazioni rovesciamenti assolutamente assolutamente la situazione si è imbastardita e affuscata in maniera totale devo dire che bisognerebbe essere capaci di introdurre questo discorso in maniera non mitica ma collegandolo a quello che è il vero problema del rapporto tecnica tecnica vitale e natura quando si dice tecnica non si parla dei grandi impianti dello sviluppo dello sviluppo tecnologico ma della tecnica di vita dello sviluppo tecnologico petrolifero o altro minerario si parla si parla delle tecniche di vita e fra queste ci sono anche tecniche minerarie che evidentemente portate fino a che punto qui è il problema ogni volta si tratta di capirlo comprenderlo in che modo in quel modo in quel modo democratico in quel modo in cui in cui lo predicava Thomas Winsor la natura è nostro fratello nostra sorella nostra madre ci siamo dentro dobbiamo rispettarla fin in fondo e dobbiamo starci dentro stando attenti però che l'indigenismo identitario è altrettanto pericoloso quanto l'operaismo identitario o qualsiasi altra cosa che pensi all'identità anche la natura va tirata dentro l'intersezione dei movimenti della discussione questo è un elemento che va assolutamente preso per non mistificare quella che è una marcia assolutamente necessaria per salvare il mondo per salvare noi stessi i nostri figli ma bisogna appunto farlo fuori dai miti perché altrimenti si rischia di fare sul terreno opposto la stessa cosa che fa il capitalismo cioè coprire i misfatti considerando le novità grazie Tony concordo pienamente rispetto alla grande attenzione nei confronti di di qualsiasi pulsione identitaria pensavo piuttosto a a costruire più che altro un regime di 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 eguaglianza epistemologica ecco questo mi sembra che sia invece un un lavoro proprio sull'epistemologia necessario senza naturalmente ci sono già lavori fatti in proposito in Brasile in particolare queste cose sono andate molto avanti anche dal punto di vista diciamo delle epistemologie etnologiche si tratterebbe di farli rispettare poi arriva sai a un certo punto arriva poi Bolsonaro e lì altro che epistemologie dici vuole l'unica epistemologia è fucile siamo d'accordo anche su questo non abbiamo e tu sai e tu sai che accoglienza gli abbiamo riservato a Padova lunedì scorso quindi di certo non parliamo di epistemologie con Bolsonaro ne parliamo tra di noi ecco infatti perché insomma facciamo anche noi siamo anche noi parte in causa a Bolsonaro riserviamo altri trattamenti ecco non solo in quanto studiosa e ricercatrice ma anche in quanto attivista allora quali sono i prossimi passi di Rise Up for Climate Justice diciamo che comunque dopo la conclusione appunto di quest'ultimo è un po' difficile pensare di tenere l'attenzione allo stesso livello ma ci provo e no in realtà credo che dialoghi molto un po' il percorso di questa realtà con con la tua ultima domanda nel senso che se veramente individuiamo il terreno della giustizia climatica come un orizzonte all'interno del quale costruire forma nel comune e la risposta è sì lo individuiamo come tale allora uno dei primi passaggi effettivamente come dire organizzativi e produttivi nel senso ovviamente etimologico del termine è anche appunto la costruzione di un sapere che sia condiviso e collettivo un sapere un episteme che accolgo ovviamente io sono assolutamente d'accordo su una decostruzione di questo paradigma antropocentrista che accolga antropocentrista o pardon che accolga ovviamente tutti quelli che sono i saperi i paradigmi transfeministi eccetera alla luce un po' di questa considerazione come rete appunto come Rise Up for Climate Justice l'obiettivo che ci siamo dati è la costruzione anzitutto di un meeting un meeting che sarà ospitato qui a Venezia in realtà non sappiamo ancora nello specifico in quale luogo le date le sappiamo sono l'11 e il 12 di dicembre che ha l'obiettivo però appunto anzitutto di mettere sul piatto di mettere in discussione una serie di prospettive di intersezioni appunto per usare un termine che abbiamo già usato stasera e che è assolutamente pregnante perché appunto se dal nostro punto di vista è vero che la contraddizione climatica non è gerarchicamente superiore alle altre contraddizioni capitaliste però permette quantomeno di avere una lettura molto chiara di tutte queste e di metterle effettivamente in rete è anche vero che la narrazione sulla crisi climatica almeno da un punto di vista come dire egemonico manca ancora di molte di queste connessioni per cui ecco il primo obiettivo che ci diamo è la costruzione di tavoli di lavoro di momenti un po' di discussione che puntano a mettere in luce quali sono appunto le connessioni tra la giustizia climatica la giustizia sociale la giustizia razziale eccetera 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 e provare appunto a partire da questo ragionamento a sviluppare delle forme appunto di di produzione da produrre appunto le forme del comune che vadano davvero nell'ottica di come dire di dispositivi di connessioni reali di forme appunto anche comunitarie dello stare insieme che siano immediatamente anticapitaliste e si spera duratura grazie mille Anna Clara allora vi ringrazio anche non so se tu Toni lo vedi non lo vedi ma c'è un numeroso pubblico anche qua al Morion allora abbiamo ancora una decina di minuti quindi prendiamo un paio di domande casomai ce ne fossero ecco vedo una domanda là però bisognerebbe venire su questo su questa X tracciata per terra a causa di esigenze di ripresa buonasera guardo in camera mi danno indicazioni grazie Toni grazie Anna Clara grazie Marco ci sono tante cose che mi hanno dato spunti in questo dibattito e tanto ringrazio veramente Toni è sempre estremamente illuminante c'è una cosa che diceva che in uno degli interventi in una delle risposte alle domande di Marco in cui sostanzialmente diceva che bisogna rompere e io sono molto convinto di questa cosa sul tema sull'idea di ineluttabilità che a mio avviso è contenuta sia nel nel concetto di resilienza di questa resilienza neoliberale di questa programmazione del capitalismo come se fosse effettivamente se avesse interiorizzato la fine della storia ma è contenuta anche nel concetto di necropolitica a mio avviso e in tutto questo io credo che come movimenti sociali come soggetti che hanno una visione quantomeno una tensione a cambiare il mondo bisogna ragionare probabilmente col concetto di transizione che non è solamente una fase dell'accumulazione ma a mio avviso è una fase della storia dentro la quale iniziamo a immergerci e in questa cosa c'è c'è una questione che poneva che poneva Tony ovviamente la mia domanda è rivolta sia a Tony che a Anna Clara ed è sul caos ma allo stesso tempo sulla ricchezza dell'intersezione io credo che probabilmente su queste coordinate dobbiamo ragionare perché siamo immersi in una fase di transizione i movimenti sono immersi in una fase di transizione allora negli ultimi anni Tony che ci ha sempre illuminato con le letture dei movimenti francesi e non solo però in Francia è emerso molto un concetto che è quello della convergenza delle lotte la convergenza delle lotte che non era solo un'architettura del politico molto spesso in Italia abbiamo ragionato scimmiottando questa cosa però in questa fase come sul piano strategico possiamo ragionare in termini di convergenze delle lotte tra movimenti proprio cercando di superare anche questo caos e ricchezza dell'intersezione toni hai sentito la domanda no ma devo rispondere al punto di vista sì sì vai 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 scusatemi no niente parlare di transizione è probabilmente probabilmente la cosa più corretta più esatta ma anche qui siamo sempre sapete è un po' quella transizione come come se avessimo un ponte però dall'altra parte non sappiamo che cosa c'è non sappiamo neppure se arriva ecco quindi siamo su un ponte che non è che il centro di transizione ci chiarisca molto la situazione nella quale siamo ci chiarisce dal punto di vista che non che sappiamo che non possiamo tornare indietro che sappiamo che tutti gli elementi dentro i quali siamo spingono avanti se facessimo questo discorso semplicemente dal punto di vista della trasformazione dei modi di produzione o anche se volete di un'antropologia del lavoro potremmo essere più chiari potremmo anche spiegare la moltitudine appunto spiegare la moltitudine come un insieme di singolarità caratterizzate da un forte sentimento da una forte tensione ad una associazione indipendente il fatto è che tutto questo è è difficile da dire è difficile da verificare siamo dentro una transizione questo è sicuro una transizione che ci porta fuori immersi in un caos o se volete semplicemente in una confusione dentro la quale le tensioni diciamo a moltitudinarie a presentarsi in maniera nuova ecco sono molto sono molto sono molto combattute sono molto ferme con Michael lo parlavamo abbiamo anche lanciato questa proposta c'era un C AMC1 finita la società il tipo di modo di produzione fordista passiamo appunto a questa situazione moltitudinaria dentro la quale la capacità di lavorare il modo di lavorare la prestazione il general intellect il lavoro immateriale formano appunto questo caos per mescolare tutto questo mescolare tutto questo non più semplicemente all'interno della fabbrica neppure all'interno semplicemente all'interno della società ma all'interno della società su quelli che sono gli assi di movimento che all'interno della società si danno ecco tutto questo mescolato poteva produrre probabilmente un C1 cioè un movimento un movimento politico polimorfo molteplice capace di però ricostruire una prospettiva di potere tutto questo mi sembra che sia stato attraverso questa crisi pandemica molto assai colpito lo dico sinceramente siamo in una transizione ma siamo in una transizione che non è una transizione non siamo in un punto felice della transizione sapete quanto io sia sempre stato accusato di essere ottimista ecco non lo sono in questo caso e penso che non c'è nessuno evidentemente non ci c'è nessuno nessun' ombra di necropolitica dentro quanto lo sto dicendo anzi sono assolutamente convinto che il lavoro vivo stia malgrado tutto muovendosi ma dentro questa difficoltà dentro questa facoltà di questa transizione e che per arrivare a una composizione più alta si vedevano vincere delle battaglie in particolare la battaglia che si tratta di vincere è che questa che questo momento di soffocamento ecco che deriva dall'estensione dalla profondità dalla pesantezza della pandemia e della capacità di eternarla ecco che potrebbe esserci nella nella scienza capitalista della governance nella scienza capitalista del potere ecco che questo qui si tratta di dibattere questa cosa di dibatterla in qualche maniera e batterla come al solito attraverso quella che è una è un compromesso quello che si tratta di un compromesso che rompa non un compromesso non un compromesso che ci distrugga grazie Tony siccome la domanda era per entrambi i relatori chiedo a Anna se vuole aggiungere qualcosa ma molto molto velocemente in realtà volevo concentrarmi più che sulla premessa quindi appunto sul concetto di transizione sulla declinazione di transizione su quella che tu domandavi potesse essere un orizzonte appunto possibile ossia quello della convergenza la cosa che mi viene un po' da come dire verificare molto semplicemente a partire da da un dato materiale che è quello delle delle piazze dei movimenti che sono andati negli ultimi anni è che credo siamo di fronte ad uno scarto in qualche misura passatemi il termine e la semplificazione brutale generazionale nel senso che è sempre più facile verificare come nelle generazioni più giovani il nesso immediato tra appunto una rivendicazione una battaglia ad esempio per la giustizia climatica una battaglia decoloniale una lotta che possa dirsi transfeminista eccetera sia immediato e tra virgolette scontato prima giustamente Marco raccontavi dell'accoglienza che abbiamo riservato a Bolsonaro a Padova nell'ultima settimana bene andare a contestare Bolsonaro in quell'occasione era dare sostanzialmente voce a posizioni che fossero ovviamente antifasciste ma era ovviamente accogliere quelle che sono le voci dei popoli indigeni che subiscono le violenze di Bolsonaro ormai da anni era dare voce al modo in cui i popoli indigeni effettivamente si sono posti per secoli millenni in realtà a difesa appunto di quella che alcuni di loro definiscono pacciamama ma era anche un modo di dar voce a quelle che sono le battaglie per i diritti della comunità LGBTQIA plus o comunque delle donne e appunto cioè nelle piazze nei movimenti che si danno oggigiorno mi sembra sempre più spontaneo appunto il darsi di queste forme di convergenza possiamo definirle forse non sono quelle che esattamente tu intendevi prima con la tua domanda però in una qualche misura credo che lo spazio da questo punto di vista si apra con il fatto appunto che io lo veda come un fattore generazionale ovviamente non voglio dire che quelle che sono storiche battaglie o che vedono appunto impegnata una composizione di una generazione magari diversa dalla mia o da quelle appunto che dopo di me vengano siano battaglie destinate a morire o che non possono trovare linfa vitale con altre anzi e credo e qui concludo che banalmente l'esempio della GKN ci dia una testimonianza in questo senso le abbiamo visti intervenire ad un climate camp a Milano in veste appunto di operai metalmeccanici e in quella sede appunto sono venuti a cercare un'alleanza con quello che è il movimento quelli che sono i movimenti climatici quindi forse sono anch'io malata di ottimismo però delle prospettive positive ce le vedo ecco da questo punto di vista scusami scusami un momento perché avevo dimenticato il tema della convergenza e la Francia in particolare diciamo che questo tema della convergenza in Francia era stato sviluppato soprattutto in riferimento alle lotte di Gilgione che si sono sviluppate appunto dal 2019 in su e che sono che sono scomparse diciamo da da un'agenda da un'agenda oggi ci sono ancora movimenti che più o meno si collegano alle Gilgione ma così che sono movimenti anti-vax o altro comunque non ha più nulla a che fare con quella che erano i comportamenti il pensiero lo sviluppo l'organizzazione l'estensione eccetera dei Gilgione di una volta e della convergenza che avevano costruito che era una convergenza che andava esattamente nei termini post-generazionali ecco per così dire cioè era una convergenza che non era determinata che non era la convergenza del meccanico più lo studente più la femminista eccetera ma era la convergenza di chi combatte contro l'estrazione sul terreno sociale contro l'estrazione capitalista sul terreno sociale le due rivendicazioni di fondo iniziali erano quelle per un salario per un reddito garantito e la seconda era quella per un meccanismo di referendum continuamente aperto su tutti i provvedimenti economici popolari del governo francese una democrazia diretta accompagnata a un reddito garantito questi sono obiettivi che sono obiettivi che vanno bene credo anche per chi vuole abbattere il capitalismo il capitolo cene assolutamente sì anzi la lotta per un reddito di base universale è una lotta per arrivare davvero ad un diverso modo di produrre di cui abbiamo veramente bisogno appunto dentro questo capitolo cene per dirne una sono le nove quindi noi dobbiamo chiudere a questo punto io ringrazio Anna Clara Basilico ringrazio Toni Negri mando un abbraccio virtuale a te Toni da parte di tutto il Morion grazie per essere stati con noi grazie a voi alla prossima e alla lotta bravo bravo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti